L'acquedotto. L'acqua che usiamo nelle case arriva per la maggior parte delle falde acquifere, dopo essere stata resa potabile. Le tubature dell'acqua che arrivano alle nostre case fanno parte di un sistema complicato di raccolta e depurazione dell'acqua, che nell'insieme si chiama acquedotto. L'acqua delle falde acquifere o dei fiumi viene prelevata con delle fonte e inviata a grandi vasche di raccolta per mezzo dei tubi. Nelle vasche di raccolta l'acqua viene frittata e purificata grazie a sostanze come il cloro. In questo modo diventa potabile. Una volta resa potabile, l'acqua lascia le vasche di raccolta e viene inviata all'aritre idrica. Si tratta di un complesso sistema di tubature che corrono per lo più sottoterra e sono collegate a un grande serbatoio che fornisce di acqua una determinata area geografica. Attraverso questo sistema l'acqua arriva fino alle case, alle scuole, alle industrie, agli ospedali. Dopo essere stata utilizzata l'acqua sporca finisce nelle fogne, cioè un sistema di canali sotterranei che si snota nel sottosuolo, nei centri abitati. Dalle fogne l'acqua viene inviata ai depuratori che grazie a speciali filtri e sostanze chimiche puliscono le acque dai rifiuti e dalle sostanze tossiche inquinanti. L'acqua ripulita può infine tornare al mare e ai fiumi.